Caduta oggetti Attraversamento serpenti Vieto di prostituzione Vieto di utilizzo di strumenti elettrici Allora, senta, io sono dispiaciuto un po' in imbarazzo nel doverle dire che purtroppo il test non è positivo Anzi, è assolutamente negativo Comunque mi sono riservato di fare una consegna, in ogni caso Non le potremo consegnare le chiavi della classe A La sola vettura che per ora posso consegnarle è questa Sai che è uno scherzo? No, mi piace che lei reagisca così No, no, va bene, mi dica, mi dica Ci possiamo rivedere a settembre-ottobre Ok In quel caso ripeteremo il test E facciamo uno scambio Uno switch, tranquillamente Lei ci consegna questa E speriamo di poterle consegnare quindi la classe A Capisco l'imbarazzo No, 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 mi prendiamo a vedere Assolutamente sì Ma ci possiamo vedere a settembre-ottobre Anche a novembre No, vabbè a novembre perché andrà vero e lungo Intanto le do questa Va bene, grazie Mi saluti caldamente Perché ovviamente è una candid camera a Mercedes Ragazzi con Mercedes oggi abbiamo giocato ma mi raccomando sulla strada non si scherzi è molto importante